Evelina di Evelina Parrucchieri da Rossello degli Abruzzi stava raccontando cosa rende insicura una sposa e come fare a renderla sicura di sé, bella, più ancora di quanto vorrebbe essere, perché a volte bastano pochi consigli. Certo, diciamo che la facciamo, vogliamo capire bene qual è il suo desiderio e poi da lì si va a fare un percorso studiato proprio per lei, per il suo evento, per tutto ciò che circonda insomma il mondo del matrimonio. Quindi rispettando lo stile della location, dell'abito, la personalità, il carattere, la tipologia, tutto. È importante comunque sviluppare l'acconciatura in base all'abito e in base anche dove si svolgerà l'evento. Assolutamente, qui fornirete un servizio di trucco e parrucco, detto in parole povere, make up e acconciatura, curando anche i familiari se fosse necessario e dando una consulenza che dura un po' nel tempo. Sì, 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 cerchiamo di essere un team completo. Grazie a voi, qui siete in un ambiente bellissimo che rispecchia la vostra mission sull'estetica. Grazie Averina e buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie.